Gli aumenti esponenziali in bolletta stanno facendo preoccupare sempre più famiglie e imprese. La Camera di Commercio di Sondro fa seguito alle richieste di interventi aiuti con l'adesione al bando promosso dalle Camere di Commercio Lombarde che prevede il finanziamento di progetti di risparmio energetico per le micro e le piccole aziende del settore ricettivo. A disposizione quasi un milione di euro, di cui 150.000 sono le risorse assicurate dal Consorzio Bindellade della provincia di Sondrio. Il contributo copre spese di acquisto e installazione di beni e attrezzature funzionali all'efficientamento energetico come collettori solari termici, impianti fotovoltaici, caldaie ad alta efficienza, raffreddatori evaporativi, sistemi di domotica, apparecchi, led a basso consumo in sostituzione all'illuminazione tradizionale. È previsto inoltre un contributo del 10% della spesa di consulenza per l'efficientamento. Per accedere al sostegno le imprese devono investire almeno 4.000 euro. L'agevolazione consiste in un contributo pari al 50% della spesa fino a un massimo di 30.000 euro per impresa. L'impegnata dei costi dell'energia sta mettendo a rischio la continuità delle attività imprenditoriali, commenta la Presidente della Camera di Commercio di Sondrio, Loretta Credaro. In questo contesto siamo riusciti a mettere a disposizione un importo significativo che auspichiamo possa essere ulteriormente incrementato. Ricordo che oltre a questa misura sono attive analoghe iniziative per i settori del commercio, pubblici esercizi e servizi, oltre che per il settore artigiano. E ora c'è anche il bando efficienza energetica per il settore ricettivo. Chiuderà il 31 ottobre, salvo esaurimento anticipato delle risorse.